secondo tempo della sfida fra Fenerbahce e CSKA Mosca la prima frazione si è terminata con un vantaggio di 2 a 0 per i padroni di casa Moscoviti intanto casa pronti via il Fenerbahce accorcia le distanze con casa CSKA 2 Fenerbahce 1 Giorgio un commento su questo avvio al fulmicotone di ripresa? C'era da aspettarsi elogiando in quanto il Fenerbahce ha condotto la prima frazione a mani basse il gol era cercato e finalmente è arrivato adesso si è ripartita la partita occhio al CSKA però che non muore mai proprio il CSKA prova a concretizzare col primo possesso palla che viene sciupato malamente torna il Fenerbahce con Trinchese in profondità la sfera per Santella che non riesce a servire casa torna a manovrare il Fenerbahce in questo caso spampanato e subentrato sul green e ha sparato malamente la sfera papaccio che nel primo tempo è stato praticamente perfetto ma nulla ha potuto sul tiro di casa d'avvio di ripresa Santella palla al piede prova a servire casa che ne ha due addosso controllo difficoltoso Cappellucci palla al piede prova ad involarsi serve De Capua che alza la sfera ancora per Cappellucci casa fa salire i suoi balletta palla al piede Santella che ha un controllo approssimativo e la sfera termina in fallo laterale cambio battuta una disattenzione di Cappellucci torna a manovrare il Fenerbahce Santella per Balletta ancora Balletta che ha provato l'imbeccata lunga ma è stato rimpallato dalla difesa Moscovita Balletta aspetta un movimento dei suoi prova a servire in la sfera troppo in profondità può manovrare il CSKA con la peruta spalla alla porta viene recuperato da Santella casa si oppone duro a sepe casa sul punto di battuta serve Balletta preferisce ripartire da Trinchese che serve in profondità spampanato Cappellucci 3 contro 3 De Capua sul sinistro ne ha due addosso ancora Cappellucci pensa al tiro lo prova e Trinchese chiude lo specchio della porta De Capua il tiro di la peruta ancora Trinchese ottima risposta fischio arbitrale Balletta in profondità per casa Papaccio di testa è preciso sepe serve la peruta che preferisce di organizzare le idee trotterella palla al piede Papaccio in profondità per De Capua manca l'aggancio anche Balletta Trinchese a buon gioco spampanato nel cuore del centrocampo Cappellucci prova l'imbeccato in profondità per De Capua ma la sfera è imprecisa viene recuperata dal Fenerbahce che riparte da una rimessa laterale casa Santella prova a servire di prima spampanato sulla fascia opposta ma riparte la peruta Cappellucci che prova il cross ma non c'era nessuno in mezzo spampanato casa è solo riparte Santella tenta il tiro tutto sommato velleitario Papaccio per la peruta che ne ha due addosso prova a tenere la sfera a guadagnare una rimessa laterale ma resta in gioco ed esce in fallo laterale proprio in questo caso Balletta sul punto di battuta casa ottima girata e Papaccio chiude bene l'angolo basso della sua porta corner lungo era uno schema a favore di Balletta che tuttavia tira male non trova la giusta coordinazione palla che si spegne in un fallo di fondo riparte il CSK Mosca Alfieri tornato in campo il capitano prova a ridare brio ai suoi che sono apparsi abbastanza spenti da quando è uscito Alfieri palla al piede tenta il tiro uno squillo per Trinchese che tuttavia assiste alla sfera che termina in fallo di fondo sepe ottima posizione capitano Alfieri tenta il tiro e arriva il 3 a 1 con spampanato ancora a terra Alfieri segna realizza la sua doppietta personale CSKA 3 Fenerbahce 1 Giorgio un secondo tempo che stava sviluppandosi in modo abbastanza noioso e appena rientrato Alfieri il CSKA ha trovato un gol si capitano Alfieri sempre sul pezzo lì è stato di ghiaccio ha aspettato un po' che il portiere avanzasse per poterlo trafiggere di giustezza con un bel destro quando si stava proponendo sepe alla sua destra però la scelta giusta è stata quella del capitano che l'ha insaccata per il 3 a 1 Silvestri torna a manovrare balletta Santella ancora Silvestri il Fenerbahce a testa bassa torna a manovrare a manovrare in avanti provando a recuperare il pareggio ha creato tanto ma ha concretizzato pochissimo il il collettivo turco Silvestri prova ad illuminare con un tacco l'azione ma sepe è coriaceo e recupera l'ennesimo pallone si aiuta a braccia larghe è tutto legolare intanto sfera alfenerbahce con Alfieri che è uscito in marcatura ha provato a impensierire Trinchese che spazzato palla che torna ai turchi ancora capitano Alfieri che è indemoniato prova a servire Cappellucci c'è molto imprecisione sepe viene superato da Silvestri che a sua volta viene murato da Sebastiano ma palla che torna alfenerbahce ancora Silvestri che prova a liberare il tiro Santella arriva il 3 a 2 ilfenerbahce è vivo e in questo caso accorcia nuovamente le distanze con Santella servito ottimamente da Silvestri ha trovato l'angolo giusto e ha trafitto Papaccio CSKA 3 Fenerbahce 2 si un buon pallone gestito da Mario Trinchese che ha servito la corrente Santella che con un gran destro ha trafitto un Papaccio che resta in grande forma questa sera Fenerbahce torna in avanti spampanato anche lui prova il tiro protesta per un calcio d'angolo ma l'arbitro irrimovibile fallo di fondo Alfieri fa a sportellate con Balletta perde la sfera riparto nei turchi oggi maglia verde Silvestri prova un aggancio suntuoso che non gli riesce Cappellucci impreciso per sepe rimessa laterale Balletta spampanato lascia sul posto Alfieri serve Silvestri Papaccio è impreciso nell'uscita è spampanato segna il pareggio CSKA 3 Fenerbahce 3 una partita praticamente perfetta di Papaccio che viene macchiata con questo erroraccio in uscita si hai ragione giando tutti i buoni frutti del CSKA sono stati vani fino a questa sfortunata disavventura del portiere che ha regalato il pareggio al Fenerbahce vediamo se ci sarà la risposta del CSKA in queste azioni intanto Silvestri prova a portare pressing sepe costretto a spazzare senza tanti complimenti mentre l'artiglieria pesante si muove dalla panchina torna la peruta in campo Cappellucci fa buona guardia a centro campo Alfieri fronteggia Balletta la peruta ottima chiusura serve Cappellucci che ha spazio per avanzare prova a servire Alfieri ma è molto approssimativo il suo passaggio Silvestri fa buona guardia fa gestire fa girare palla spampanato ancora Silvestri serve Balletta che non trova un compagno al centro area Sebastiano prova ad involarsi Sebastiano e arriva il fisco arbitrale in quanto scusate Silvestri non può giocare palla da terra ma arriva il fischio arbitrale che premia il Fenerbahce perché c'era un fallo è stato ravvisato un fallo in precedenza chiamata abbastanza macchinosa questa dell'arbitro Santella sul punto di battuta in barriera Cappellucci e Alfieri Santella il passaggio per Balletta che tenta il tiro e Sebastiano praticamente la devia da centravanti di esperienza e l'ennesimo infortunio che porta in svantaggio il CSKA fermo a tre reti e il Fenerbahce adesso è a quattro Sì Giando pare che il CSKA in questo frangente abbia perso un po' di lucidità Sebastiano fino a questo momento autore di una partita tenace di una buona partita di una buona prestazione sfortunato qui ma attenzione è la conclusione del CSKA che si spegne sul fondo Giando quindi dicevo sfortunato Sebastiano ci si aspetta una reazione da parte dei blu il CSKA sembra abbastanza frastornato da questo doppio infortunio che ha portato in svantaggio gli uomini di Alfieri che anche in questo caso ha provato un tocco di suola recupera prontamente la sfera persa da egli stesso Napolitano solo contro due la peruta palla al piede prova a servire Alfieri che di prima intenzione la mette in porta per la sua tripletta Atric di Alfieri CSKA 4 Fenerba c'è 4 e viene ristabilita la parità la reazione c'è stata Giando questo CSKA veramente non muore mai non smette mai di stupire anche se l'errore di impostazione da parte del Fenerba c'è abbastanza grossolano però Alfieri sempre freddo davanti al portiere ne ha messi 3 questa sera siamo già 6 gol nella ripresa un secondo tempo spettacolare pieno di contenuti palla in rimessa laterale il CSKA getta le ortiche questo possesso ma lo recupera prontamente la peruta per Alfieri ed arriva il quarto gol il poker del capitano del CSKA Mosca che parte in vantaggi suoi CSKA Mosca 5 Fenerba c'è 4 devastante capitano Alfieri Giando devastante è stato bravo il suo compagno a conquistare quel pallone sulla sinistra lui se l'è chiamata se l'è chiamata al centro il pallone è arrivato ed è stato veramente implacabile quarto gol per lui capitano Alfieri centra avanti di vestire cala il poker e non è sazio De Capua ancora per Alfieri che in questo caso prova di tacco abbastanza velletario mancata un po' di cattiveria mentre Silvestri prova a manovrare per il Fenerbace guadagna un fallo lo stesso Alfieri protesta calcio piazzato per il Fenerbace che adesso si ritrova in svantaggio Napolitano sul punto di battuta in opposizione in barriera De Capua e lo stesso Alfieri protagonista assoluto del match Napolitano tenta il tiro che si spegne al lato della porta presidiata da Papaccio che prova a servire Alfieri e ancora lui è insaziabile Alfieri stasera cala il pocherissimo 5 segnature di Capitano Alfieri CSKA Mosca 6 Fenerbace ferma 4 straripante la reazione di Giovanni Alfieri capitano del CSKA e bomber del CSKA 5 gol per lui adesso sulle ali dell'edusiasmo il CSKA 2 gol di vantaggio vediamo se questo Fenerbace è rimasto sconvolto da questa super prestazione del capitano dei blu intanto è entrato in campo Cappellucci che sostituisce proprio Capitano Alfieri un po' stanco forse l'ultimo sforzo atletico per appendersi alle reti del centro sportivo Maracanà ha lasciato il segno e rifiata in panchina ben soddisfatto dopo 5 segnature personali mentre il Fenerbace prova a offrire del gioco offensivo e in questo caso Orto tenta il tiro torna a manovrare il Fenerbace vediamo se senza il proprio capitano in campo i Moscoviti torneranno in difficoltà contro i Verdi di Turchia Napolitano sulla fascia tenta il tiro ma Sebastiano si immola la palla si infrange contro di lui calcio d'angolo azione confusa da Silvestri prova il tiro la peruta brecco offensivo preferisce ragionare servire Cappellucci caricato da Santella Orto Santella Napolitano serve Silvestri tiro abbastanza impreciso poteva sfruttarla meglio tutto solo la peruta palla al piede profondità per nessuno la palla torna al Fenerbace Santella Napolitano ancora impreciso subentra anche un po' di stanchezza mentale vedo il Fenerbace un po' demotivato in campo Giorgio si dopo questa super prestazione questi gol da parte di capitano Alfieri sono decisamente molli in campo pare abbiano perso quella fiducia quella grinta che li caratterizzava nella prima frazione di gioco vediamo un po' vediamo un po' Giando staremo a vedere intanto calcio di punizione per i Verdi Santella sul punto di battuta in opposizione Cappellucci e De Capua mentre Silvestri si propone per un passaggio arriva il tiro rimpallato da Argenziano appena subentrato in campo fallo di fondo e arriva il time out attimi di pausa per le due formazioni che riorganizzano l'idea il CSKA prova a gestire il vantaggio proverà sicuramente a congelare il gioco fino al termine della gara mentre invece il Fenerbahce tenterà le ultime disperate sortite offensive pur di riacciuffare il risultato Giorgio se il suo talento potrà cambiare le sorti non felici dei turchi tanto si alza il vento e potrebbe a sua volta influenzare le traiettorie della sfera vedremo se gli estremi difensori trinchese e papaccio verranno tratti in inganno magari da un soffio di vento mentre riprende il secondo tempo della sfida fra CSKA Mosca e Fenerbahce qui al centro sportivo Maracanà con i blu di Mosca in vantaggio per serie a 4 contro il Fenerbahce Argenziano porta il primo pressing se per rientrato sul green ne ha due addosso guadagna una rimessa laterale pallone tirato via da spampanato Sepe preferisce ripartire da papaccio tutto solo per Cappellucci Sepe Sebastiano torna sui suoi passi e serve papaccio CSKA offre un buon giropalla che in questo caso mi smentisce prontamente Cappellucci spazza via la bene meglio Argenziano prova uno spunto ma papaccio fa buona guardia riparte in contropiede il CSKA con con il Fenerbahce costretto a utilizzare un fallo tattico per fermare l'avanzata di La Peruta in questo caso Silvestri è stato il cattivo che ha che si è emolato per il fallo Sebastiano parte da Papaccio ancora Sebastiano prestato da Argenziano in modo molto blando tuttavia abbastanza efficiente il pressing perde palla la squadra di Mosca trinchese controllo abbastanza approssimativo di Silvestri che lascia scivolare la sfera Sepe prova il tiro rimpallato da Spampanato Argenziano palla al piede non ha buon gioco Papaccio Sepe lunga per La Peruta troppo lunga Silvestri prestato da Cappelluccio Sebastiano un body check tremendo fra quattro calciatori Cappelluccio ancora su Argenziano numero due danza sulla sfera Orto Silvestri prontamente impattato da Sepe Coriaceo Cappellucci un tunnel Sepe a tu per tu con Trinchese tenta il tiro ma viene murato dal portiere turco calcio d'angolo Cappellucci sulla sfera serve la Peruta prova la sfonda becca un calcione Silvestri riparte Argenziano uno contro uno con Sebastiano c'è là sul destro sul sinistro prova il tiro ma la conclusione si spegne a circa dieci centimetri dallo specchio di porta Papaccio era battuto ma non c'è stata la precisione necessaria intanto Capitano Alfieri cariche sui dalla panchina bomber in campo e trascinatore quando rifiata Argenziano Argenziano perde la testa in questo caso pressato da Cappellucci che ruba la palla e becca un calcione dal numero due del Fenerbace Argenziano Argenziano sul punto di battuta prova il sinistro rimpallato da Cappellucci Orto palla al piede spampanato fronteggiato da Sepe che è molto duro nei suoi contrasti arriva una rimessa laterale ancora il Fenerbacin avanti prova il tiro Silvestri ma a porta vuota in questo caso abbastanza impreciso Giorgio ancora un Argenziano che ha delle idee abbastanza confuse non non brilla in campo si Giando è troppo nervoso l'abbiamo visto nell'occasione precedente una brutta reazione ma attenzione vediamo qui Cappellucci Sepe il tiro il portiere a ridosso della linea della sua area di rigore spazza di piedi ancora Cappelluccio rimessa laterale per i blu Cappelluccio si lamenta per un contatto duro di spampanato prova il tiro Cappelluccio Sepe a sua volta tira e si spegne sul fondo dicevi Giorgio si Giando dicevo che l'atteggiamento di Argenziano non è di aiuto per la sua squadra qui ha provato il sinistro molto nervoso ribadisco e ciò non aiuta il Fenerbace le speranze di agguantare almeno il pareggio si assottigliano sempre più torna a manovrare il CSKA il break di Argenziano che in questo caso becca un calcione di Sebastiano che professa la sua innocenza ha toccato prima la sfera ma in seconda battuta ha scalciato il ginocchio di Argenziano che rantola ancora a terra mentre Capitano Alfieri entra in campo per strigliare i suoi non è contento dell'atteggiamento della sua squadra in questi minuti e arriva il primo tiro libero si inaugura la serie di tiri liberi il CSKA con i suoi ripetuti falli ha raggiunto il bonus Silvestri sul punto di battuta e arriva la segnatura che accorcia le distanze Silvestri segna il gol del provvisorio 6 a 5 CSKA 6 Fenerbace 5 saranno dei minuti finali infucati Sì Giando da dire secondo me questo fallo non c'era in quanto Sebastiano aveva prima preso il pallone poi di esperienza Argenziano si è andato a conquistare questo fallo però i replay e le immagini mi smentiranno nel caso ma finisce qui il match non c'è più tempo e a seguito della battuta del calcio d'inizio arriva il triplice fischio del direttore di gara Vano il tiro libero di Silvestri che ha accorciato le distanze il punteggio si cristallizza sul 6 a 5 finale CSKA 6 Fenerbace 5 3 punti conquistati con un unico protagonista capitano Alfieri si questo è in dubbio la prestazione dei muscoviti è stata compatta forse è mancata l'esplosività della squadra avversaria ovvero del Fenerbace però quelle occasioni che sono capitate per i piedi principalmente di capitano Alfieri sono state sfruttate al meglio come recita il tabellino marcatori 5 le segnature per capitano Alfieri se bisogna decretare un peggior in campo credo che non ci siano dubbi circa il numero 2 del Fenerbace Argenziano che oggi non ha offerto una buonissima prestazione si dispiace confermare questo ma non ha brillato non è stato d'aiuto per i compagni il suo atteggiamento ha penalizzato tutta la squadra terminano le ostilità qui al centro sportivo Maracanà per la gara valevole per la sesta giornata del trofeo Jack ricordiamo il punteggio finale CSKA Mosca 6 Fenerbace 5 e andiamo a sentire i protagonisti le interviste post match per Videonola siamo qui con Argenziano al termine della gara persa dal Fenerbace col punteggio di 6 a 5 contro il CSKA Mosca un commento su questa partita? siamo troppi nervosi in campo soprattutto io chiedo scusa ai miei amici non lo so in un altro torneo ci rifaremo di sicuro magari con qualche minuto in più si poteva pareggiare questa gara? beh non lo so un attimo disbandamento dell'amico Gennaro non lo so una palla che è scivolata strana e ci ha puniti l'amico Giovanni Alfieri per le prossime gare come giocherà il Fenerbace sempre lo stesso atteggiamento si cambia qualcosa? non lo so io stasera dovevo portare un pacco di sale quello doppio ma sicuramente non serviva a niente ma dietro la porta c'è pure un ferro di cavallo perché ce l'ha dato il nostro amico Felice Paolo ma non serve a niente siamo troppo sfortunati mi dispiace la prossima volta abbiamo con noi al completo la squadra del CSKA che questa sera ha sconfitto il Fenerbace dopo una bella partita agguerrita la parola al capitano stasera autore di ben 5 reti spietato sotto porta una bella partita anche se sofferta perché il Fenerbace ha fatto un bel gioco e ha creato tanto il Fenerbace è forse la squadra più forte che abbiamo incontrato fino adesso il merito non è stato mio dei gol ma di tutta la squadra che è il gioco che ci contraddistingue e ci rende unici che noi siamo una squadra basta e per quanto riguarda mi è giunta voce che il tuo soprannome in particolare Tigre la Tigre del Jack volevamo sapere un po' la storia di questo soprannome forse per la freddezza sotto porta no 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 la punta il tiro di punta che mi contraddistingue a volte però non sempre purtroppo non sempre volevamo sapere dopo questa bella vittoria gli obiettivi per questa competizione divertirci divertirci basta non abbiamo obiettivi sì ovviamente sopra il Trab dobbiamo finire sopra il Trab e vincere contro il Trab basta poi il resto a me non importa poi tocca a Giuliano e agli altri vincere le altre partite io devo vincere contro il Trab basta una parola per il vicecapitano sì come ha detto il capitano stasera abbiamo affrontato un'ottima squadra e dopo un inizio un po' difficile adesso abbiamo portato a casa quattro vittorie consecutive e siamo in alto in classifica ci fa piacere questo ciao